Lei è stato di grande aiuto, davvero. Ormai, posso parlare a me? Lo lasci, lo lasci più, mi prende ancora. Ah, grazie. C'è bisogno di questa cellula. È successo qualcosa? Signore? C'è bisogno di questa cellula. C'è bisogno di questa cellula. C'è bisogno di questo. Andiamo, vieni! Andiamo, vieni! No, lasci! Lasci! Non tolto! Sta zitta! Devi venire con me! Ma che vuol fare? Lasciami! Sta zitta, stronzo! Fermo! No! No! Non mi prego! Il mio bambino... Non si muova, sta bene! No! No! Mi ha chiuso di andare! Sta zitta, fermo! Senti! Io adesso esco di qui insieme al contabile! E il contabile e io usciamo e ce la filiamo in macchina! Sì! Altrimenti lo uccido! Lo uccido! E tu non avrai ottenuto niente! Hai capito? Ti do cinque secondi per dirmi cosa vuoi fare! Ve lo dico io! Ve lo dico io! Quello che volete sapere! Ve lo uccido! Guarda che io lo scherzo! È il pazzo! Se non lascerete che mi uccida vi dirà tutto io! Lo giuro! Ce l'hai? Sì, ce l'ho! Uno! No! Fermatelo! Spara! Due! Due! discorre di fronte! Ecco! packets! Risame! Facil tue! Capito! Pacito! Calambo! Pacito! Usamsi!